Ciao ragazzi! Prima di iniziare il vlog vorrei dirvi che ci vediamo oggi, giovedì 25, alla Mondadori di Via D'Azeglio, qui a Bologna, alle 5 e mezza, per la presentazione di Millennials di Fabio... Ho detto bene Fabio? No? Ho detto Fabio. Fabio Ciccolani! Cosa c'è? Se glielo dice il vlog esce domani? No, esce oggi questo. Ah, scusate. È un'occasione per vederci gratuita, nel senso che l'ingresso è libero, venite solo se siete di Bologna, non voglio farvi scomodare, faremo un raduno prima o poi. È un discorso che ho fatto già ieri, ma magari qualcuno si è perso il video. Anche se non sapete che cos'è Millennials, venite, perché parleremo anche d'altro, magari vi fa scoprire un libro che vi può interessare e soprattutto vedete me. Baccetti. Io vorrei dire una cosa, vorrei far vedermi uno svanto bellissimo. Ma che cacchio dici? Posso farvi vedere? No, dai. Dovevo essere 20 minuti fa da quelli della band. Mi sono riaddormentato. Sono in ritardo. Via, via, via. Dobbiamo volare. Stavo per ammazzarmi inciampando. Mi sono preparato in tempo record. Per fortuna mi capita di rado perché odio veramente tantissimo mancare la sveglia e svegliarmi in ritardo. Anche perché poi mi presento nei posti con sta faccia addormentata qua. Devo pagare il biglietto per il parcheggio. Darmi. Non ho tutti questi soldi. Vado a prendere il banco. Corri, 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 corri. Bella Bic. Bella Bic. Con la videocamera postato dai giochi per i bambini. Secondo me qualcuno ti arresta entro oggi. Oh alla buon'ora eh Ce l'hai fatta eh Ti sto aspettando da un sacco La cosa rassicurante però è che Tonno si è svegliato dopo di me e non è ancora arrivato Quindi non è colpa mia, non è colpa mia Posso farlo anche più lungo eh Eccolo Se volete un nerd a casa vostra sono Tonno L'istinto animalesco che è Pesce da Tonno Piango No no dopo mi butti giù di nuovo Lo scimmione ci abbandona e cambiamo location Sei contento con la tua bebitina rinfrescante Bravo Mi piacevole Mi è scena divertente, fallo ancora era proprio piacevole Sì che goduria Eh what's up What's up man Mi donerebbe la barba così non trovate Bello Ma se tutti i tuoi iscritti ti insultano perché hai la barba lunga Non è vero Invece sì Siete cattivi Tonno si è messo i miei vestiti E ragazzi se sta bene con lo stile epistelino pastello Salute Grazie Sto minando scalzo ma ci sono le cacche Allora quello lì è il signor Bic che si improvvisa regista Sono un regista Ma sbaglia assolutamente tutto Io sono un regista Sbaglia tutto Questo qua è Stiva il batterista senza tempo Che si Questo schifino lo togliamo Bello Bello Stiva Quello là è l'unico sensato di questa band È Luca Guardatelo Seducente Sguardo atomico Ragazzo ormai è solo vostro Masturbate Questo qua è Nelson In modalità restrizioni Il regista Bic Si sta arrabbiando Però non so Perché dice che Nelson Non si ricorda la sua canzone Ci alziamo direttamente Facciamo Guardate quanto è possente Guardate quelle vene varicose Lo vendo Al solo prezzo Di 5 gnomi da giardino Vale 5 gnomi da giardino Affrettatevi Cosa fai? Lo stai facendo Tonno? Con Drifo? Sai che non abbiamo tempo Stai un dritto C'è l'acqua Guarda Da 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 No 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 Finito impacchettiamo e ripartiamo Cioè non abbiamo finito in realtà Ma si è scaricata la videocamera di Bic Nelson è lento Non permettetemi di tagliare le riprese che ti ho fatto Ma aspetta ma perché hai messo Avevi sovraesposto di brutto la videocamera? Lo voglio vedere in questo video Va bene Comunque si si è scaricata la videocamera di Bic e dobbiamo andare a casa Nelson è lento Ma prima stavamo facendo una scena e si è stato 6 ore a urlare C'è Gianni Morandi Volevo metterlo nel video Finite le riprese Ci dobbiamo rivedere venerdì Speravamo di finire oggi Ma è andata così Venerdì Al 99,9% finiamo E la canzone Se tutto va bene Dovremmo pubblicarla Inizio della prossima settimana Adesso Premio pranzo Per i nostri operatori Sua casa di Bic Dove ci sono i cagnolini Ordiniamo da Sniam Quindi mangiamo gratis Quindi cibo bello e buono Più cagnolini Uguale Tante views Yama ya Dove sono le mie views I miei bau Nicolas ma ci sono le mie views I miei bau Eeeh Forse Come forse 10% 10% 20% 15 15 15 Noi siamo venuti qua su da Nicolas per mangiare Vieni anche te Vabbè puoi venire anche a fare un saluto Mentre noi mangiamo Se ti va Funda Guarda come stai Cosa ordiniamo? Le bazze di avere le bazze Non mette a fuoco Tata 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 Alta sartoria E caramellato Tac Ciao Ci sono tutti i bau piccoli che dormono Guarda la onda Da luna sotto il tavolo Devi vedere questo che si è incastrato Ciao bau piccoli Ma Via Ciao bau piccoli State crescendo eh Siete grandini eh Adesso io non sono bravo a riconoscerti ma sei tu Nala? Il cane di Dredd sei tu? Ciao Nala Ciao Ciao Il colore Ha vinto tutto Ha vinto tutto questo cane Si imposta un po' la fronte Grazie Un metta fuoco Come sei serio Da Bic Snam non consegna Ci siamo sbagliati quindi siamo a casa di Cesare Mangiamo qua Stiamo morendo di fame Sì davvero sono le tre Eh esatto Bic ma consegna Snam a casa tua Sì sì Hai ho vest Hai ho vest Hai ho vest Bic Brava Aiutami con la roba Tonno Dobbiamo portare su Dobbiamo portare su No solo il mio zaino serve in realtà Prendi il mio zaino Ma sono il tuo schiavo? Non ho capito Abbiamo ordinato su da Bic Dovrebbe arrivare qui E magari è anche già arrivato Sarebbe veramente figo Ma com'è se entriamo in casa di Cesare e c'è Bic? Che fa quando non consegna Che mangia i miei panini Che mangia i tuoi panini Ciube All'assalto degli hamburger Culetto Bella Cesu Bella Cesu Ciao Ciuve Ciao Gattino Ah Ciuve Non è tutto male Ciao Ciao Matisse Ciao Matisse Ooooooo Il computer nuovo di Cesare Eeeh Ma invece di imparare a montare i video stai giocando ai videogiochi? No tutta stamattina Cosa fa? Ma ai videogiochi Nooo Guardate che bestia di panino Invece per l'essere non c'è problema Che buono Cesare ha trovato un ragno E questo ragno E qui si vede E gli sta facendo le uova dentro un barattolo In realtà ho visto che il ragno era gravido Ah ok Quando l'ho preso Allora ho detto Beh lo mettiamo dentro un barattolino E la facciamo partorire Il giorno dopo Ho già fatto vedi il bozzolone di uova Che schifo Adesso si è chiusa ermeticamente dentro il suo guscione E aspettiamo che si schiuda il tutto Che schifo Ciube non scappare Ciube dai ti prego Ciube vieni qua Ciube Vieni qua Ciube vieni E' straziante questa scena Ciube vieni qua Ciube Ok ce l'ho Ciube Vieni Ciao Ciube Caffè Assolutamente involontariamente Inizia così E finisce così Inizia e finisce nello stesso modo Assolutamente involontariamente Non so Queste coincidenze mi gasano un mucchio Sono gasatissimo Sono proprio felice di questa cosa Forse ho qualche problema Forse Stasera allenamento con la serie C della mia squadra E sono un po' spaventato perché al campo dove ci alleniamo è pieno di zanzare Per cui sarà una guerra Sangue ovunque Volevo mangiarmi qualcosa per recuperare un po' di energie Ed evitare magari di stare male durante allenamento come l'ultima volta Di rischiare di morire lì Però dopo il panino gigante mangiato a pranzo Mi sa che mangerò verso tipo le due di notte di nuovo Quindi non ho mangiato niente perché il suo pensiero mi spaventa Mi sa che gli altri hanno già iniziato Sì, hanno già iniziato a scaldarsi Come al solito vi abbandono perché dovrei cercare di fare il meno cappello possibile Quindi la videocamera è troppo distrazione Bella dal campo e bella pure dalla mia borsa Guardate che bel cielo Sì, il regano sta piando a un mese Ti rimetto via però Non ho più l'età Non ho più l'età Bella roga Guardate la magia dell'influencer Cioè la magia del web in realtà Ho messo il video dove faccio il lancio a canestro È una parte del vecchio vlog E guardate Il frisbee non entra Però il solo fatto che io l'abbia messo La gente, a parte qualcuno un po' più sveglio che dice Non è entrato Gli altri pensano tutti che sia entrato È quasi entrato Ma non è entrato È a rimbalzato È l'immagia dell'internet Fai vedere una cosa e la gente dà per scontata che sia vera e giusta Esperimenti sociali qua Esperimenti sociali Adesso mi sa che voi non lo vedete Però c'è un ragno che penzola lì e Che cacchia fa? Che paura Odio i ragni Sono nel confoglio Non so come agire Vado a dormire in sala Domani ho un sacco di cose da fare Tantissime Troppe Per cui vi saluto qua Ma che cazzo sta succedendo? Vabbè C'è roba che vola L'ho lasciata la finestra aperta Adesso sono entrati gli animali E non è uno zoo questo Ci vediamo domani Lasciate un mi piace qui sotto Cerchiamo di arrivare a 3000 Andatevi a vedere il video dei capelli blu Perché la road to 100.000 views è ancora in atto Trovate il link in descrizione A domani Fate i bravi Buonanotte anche da quell'affare là Aspettate Ho zoomato con la videocamera Non è un ragno È tipo una cucinella Non ho idea del perché penzolasse attaccata a qualcosa Però questo cambia tutto Cambia tutto Posso andare a dormire